Non si è passate dalle parole ai fatti, è una delle categorie in questo momento che sta soffrendo di più. Si prevedono altri 7-8 mesi di lockdown, comunque di lockdown più isolati, ma comunque una situazione che degenera di giorno in giorno. Abbiamo centinaia, qualche migliaio di imprese, imprenditori e famiglie che sono al collasso finanziario. E alle spalle c'è la Regione Calabria che non può essere il luogo delle chiacchiere o delle promesse disattese. Questo deve essere il luogo del fare, di trovare soluzione in tempi rapidi e veloci. Il messaggio che voglio dare alla Santelli e a tutta la Giunta è di svegliatevi, svegliatevi e fate presto perché rischia di essere tardi. C'erano impegni ben precisi che avrebbero destinate a questa categoria delle somme necessarie per tenerle in vita. Bisogna mettere le giuste risorse per consentire a questo settore, ad anni di sacrifici, di non andare in fumo e superare questo momento di difficoltà. Ma questo si era chiesto, questo da qualche componente della Giunta, cioè l'impegno solenne di fronte a questa scelta, scelta che non abbiamo visto. Sono passati mesi e la cosa che fa più rabbia è che si continua nella indifferenza totale. Un impegno disatteso ed è un momento molto delicato per questo Paese. Noi siamo consapevoli del grave momento per la Calabria, per l'Italia e in parte anche per il mondo intero. Ma abbiamo invitato la Santelli ad un senso di responsabilità, a trovare delle soluzioni. Ci sono in questo momento la rimodulazione di importanti somme europee, parte delle quali potrebbero essere destinate a questo settore che in questo momento è in Cinocchio. Confapi si trova nuovamente dinanzi ai palazzi della Regione Calabria a fianco a tante aziende, migliaia di aziende, centinaia di aziende in Calabria che rappresentano anche tanti e tanti posti di lavoro. Abbiamo stimato intorno a una migliaia di posti di lavoro solo in Calabria. E questo sarà un disastro, sarà un disastro se le promesse continuano ad essere disattese, se la Regione Calabria e anche il Governo non stanzino dei fondi, fondi che ci sono come abbiamo appreso anche da fonti televisive oltre che istituzionali. Pertanto chiediamo semplicemente che la Regione Calabria in questo caso stanzi delle misure, dei fondi che ha nelle proprie casse in favore di una categoria finora totalmente esclusa da ogni forma di tutela. Sicuramente promesse disattese, il senso della situazione, della drammaticità della situazione la dà il fatto che a distanza di tre o quattro mesi rispetto alle manifestazioni che in maniera separata le due associazioni di categoria hanno tenuto in primavera a maggio e a giugno si è deciso quasi in maniera inedita sicuramente per il panorama delle associazioni datoriali calabrese di protestare unitamente proprio perché vogliamo, negli interessi di questo settore, particolarmente in difficoltà ma che è sicuramente di importanza fondamentale per una Regione che vuole fare del turismo il suo volano economico e quindi la necessità di ritrovare degli strumenti a livello regionale e di richiedere delle attenzioni non di più né di meno rispetto ad altri settori che erano in crisi probabilmente anche meno rispetto al settore al comparto turismo e in particolare al settore del trasporto, passeggeri e per i quali settori le attenzioni si sono trovate noi non chiediamo né più né meno le stesse attenzioni che la Regione, la Giunta ha riservato alle altre categorie, agli altri settori